Cari colleghi, purtroppo vi devo dare una notizia, in questo momento abbandono la postazione sul mondo, non so fino a quando potrò tornare, l'importante è sappiate bene che non abbandono lo scioglio della fede, io non abbandono lo scioglio della fede, abbandono la postazione di Roma perché ho altri problemi in questo momento più importanti, quindi mi scuso con tutti, in particolare con gli iscritti con l'acqua, non vi farò fare brutta figura, cercherò di portare alto questa manifestazione perché questa manifestazione è una manifestazione seria e importante, chi non l'ha capita, chi la mette sullo scherzo, lascio al popolo dei vigili del fuoco, lascio al popolo dei vigili del fuoco, come si può dire, scegliere, valutare, non lo so, io umilmente chiedo scusa e da questo momento abbandono il territorio di Roma, ma non abbandono lo scioglio della fuoco, grazie e scusate, lascerò spazio a chi anche fino adesso ha saputo solo fare critiche e dire che mangiavo, mettere la foto dello scioglio della fame con me che mangiavo al ristorante mesi fa, se non sanno fare altro, come possono questi fare i propri interessi e gli interessi dei vigili del fuoco. Grazie ragazzi, un bacio